Ogni anno il nostro territorio è funestato dal fenomeno degli incendi, quest'anno mi sembra ancora di più. Ieri sera la montagna di Formia in fiamme faceva paura, rendeva irrespirabile l'aria, ma ancora di più scoraggiava considerare come questo fenomeno sembra impossibile da fermare. Non sono uno sperto da poter determinare l'origine degli incendi, ma certo qualche responsabilità da parte nostra c'è, almeno a livello di manutenzione del territorio e di indifferenza. Poi, se questi incendi, come molti pensano, sono dolosi, allora non ci sono parole per condannare comportamenti che non hanno nessuna considerazione dell'ambiente, del territorio, della salute, degli altri. Distruggere territorio per i propri interessi e per qualunque altro motivo è un comportamento grave, immorale e non ha giustificazioni. Quello degli incendi è un fenomeno che è come uno stigma su di noi, non ci fa onore.